Siamo nella radio, questa mia canzone, senta l'aria e va stupendo, tra l'aria e il fonte, chi te volo, vado su, parla, luna e il son, su, per l'aria e l'aria. Le tante canzoni, 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 Laura Costini, grazie, allora cari amici, ce la fate venire tutti qui vicini a noi, è stata una serata magica, quindi vogliamo finire davvero in maniera magica, quindi vogliamo tutti qui sotto, vicini, vicini, dai Tangheros, forza, Claudio, vicino, guarda sono sempre fortunata, stanno tutti vicini, 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 la voce ce l'avete? Dai ancora un po', venite, 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 anche le ragazze di Ferrara le vogliamo tutte qui, eccole là, ragazzi avvicinatevi, non voglio vedere il buco qui, eh? Allora, uomini coprite, coprite questa parte di buco, uomini avvicinatevi, tu da qua, ecco, c'è un buco da coprire, non dire, ecco, tutti qui sotto, bellissimi davvero, guarda che qui, dire queste cose a Ferrara è davvero, cosa ho detto? Hai detto una cosa, ho detto una cosa brutta? Sì, non devi dire questo, ho detto, ho detto, ho detto, perfetto, bellissima, allora ragazzi adesso ce l'avete, ce l'avete il telefonino, non importa, lasciate, la voce, pronti con la mano, la voce ci basta, pronti? Via! Provatevi a sentire! Sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì,